Continuano senza sosta le ricerche degli undici dispersi a Ischia, tra cui ci sono anche due neonati. In seguito alla frana di fango che ha colpito Casamicciola, un'anziana di 93 anni, è bloccata in casa dal fango che ha sommerso l'abitazione fino a 3 metri. I pompieri non riescono a raggiungerla, tra i dispersi, anche due cittadini bulgari. I feriti sono quattro, dei quali uno grave, ricoverato in codice rosso al trauma center dell'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il maltempo che si è abbattuto sull'isola ha provocato enormi disastri, distruggendo le abitazioni. Una donna di 31 anni è morta. Si tratta di Eleonora Sirabella, originaria di Laccomeno, ma residente a Casamicciola. La giovane faceva la commessa in un negozio di abbigliamento e sognava di sposarsi con il compagno, un marinaio del posto che ancora tra i dispersi, gli sfollati sono 167, hanno trovato sistemazione presso gli alberghi dell'isola o in modo autonomo. Sono questi i dati dell'ultimo bollettino diramato dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Sull'isola sono impegnati 220 uomini delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, oltre a numerose squadre. Dei vigili del fuoco.